E' un applauso! Che bello! Grazie! E io questo applauso lo dedicherei anche allo staff della cucina e allo staff di sala che vi hanno... Eccoli qua! E adesso potete andare a maniare! Mi raccomando però eh! Oggi abbuffate troppo che poi vi espertano le danze fino a notte fonda e all'alba! Pausa! Ciao! Ciao! va a te per mangiare?